Amici di Fano TV ben trovati in questo approfondimento si parla ancora di politica con un altro ospite in studio candidato in regione con la coalizione del centro-destra a sostegno di Francesco Acquaroli abbiamo in studio Stefano Aguzzi buonasera buonasera carissima e buonasera a tutti allora la conosciamo come un imprenditore agricolo è stato sindaco di Fano per ben 10 anni e dal 2017 sindaco di Colli al Metauro sono stati anni di un'intensa attività in cui diciamo che è cambiato proprio il modo di fare politica perché lei si definisce il sindaco della gente vicino ai cittadini e alle loro problematiche tante sono state durante gli anni del suo mandato le iniziative importanti soltanto nel comune di Fano ha realizzato insomma opere di grande rilevanza a partire dalla Mediateca Montanari alla ristrutturazione e l'impegno negli istituti scolastici all'aver portato la sede universitaria di Urbino con il distaccamento di Fano insomma sono tante e l'elenco davvero sarebbe interminabile non ultima l'illuminazione delle mura della Mandria tra le tante opere in 10 anni appunto di mandato in quel di Fano e anche a Colli al Metauro il suo impegno continua continua con per esempio la casa delle associazioni la caserma della polizia locale e ancora sono state effettuate per la prima volta delle verifiche sismiche negli istituti scolastici del comune attuale la palestra di Villanova la pista polivalente e tutto questo per dare maggiore importanza al territorio e ai cittadini e allora io vorrei sapere innanzitutto perché ha deciso di candidarsi Ho deciso di candidarmi perché proprio come poco fa elencavi dopo diversi anni di amministrazione nei comuni di Fano prima di Colli al Metauro io mi sono reso conto di quanto particolarmente negli ultimi 5 anni la regione invece sia stata assente da quelle che sono le grandi tematiche che interessano tutti i giorni la vita dei nostri cittadini una regione che quindi non è tanto che abbia governato male io credo proprio non abbia governato in questi anni non ha lasciato segni tangibili su alcun tema di cui questo territorio necessita nessun intervento in particolare nessun'opera legata all'attuale amministrazione regionale solo quella di aver mandato in deperimento tutta una serie di servizi a iniziare da quelle della sanità e mi sono candidato anche perché me lo ha chiesto personalmente questo mi ha fatto molto piacere il candidato presidente del centrodestra Francesco Acquaroli che è una persona che io conosco da diversi anni una persona molto valida una persona molto adatta ad essere il presidente della nostra regione perché è una persona che ascolta più che parla ascolta e quindi sa diciamo quando interviene quali sono le problematiche me lo ha chiesto lui personalmente questo mi ha onorato molto e mi ha spinto a dare una mano in prima persona candidandomi in una delle liste a suo sostegno Aguzzi perché proprio con Forza Italia? Io dal 1999 non sono iscritto più a alcun partito quando mi sono candidato a Fano ed anche a Coglio al Metaro l'ho fatto attraverso una lista civica sempre sostenuto dal centrodestra non sono mai stato nella vita oltre che in politica tra virgolette un estremista uno magari né di estrema destra né di estrema sinistra sono sempre stato una persona molto pacata ragionevole un moderato come si suol dire e un riformista uno che guarda avanti però senza diciamo fughe in avanti non sono il cosiddetto rivoluzionario sono quella persona che affronta i problemi quando ci sono cercando di risolverli a uno a uno a poco a poco come normale che sia giusto che sia quindi ho trovato nel partito di Forza Italia diciamo la forza del centrodestra che più mi rappresentava in questa mia visione politica di questi ultimi dieci anni ed è il partito anche che voto a livello nazionale io non sono iscritto a Forza Italia anzi ringrazio questo partito che ha avuto l'intelligenza di aprirsi anche al mondo del civismo tant'è che nel simbolo c'è scritto anche proprio civici per le marche e oltre a me ha accolto anche altre figure di altrettanto grande valore nelle sue liste e questo è indubbiamente un valore aggiunto a tutta la coalizione di centrodestra un moderato riformista che sostiene sia ora di cambiare ma fino adesso che cosa abbiamo fatto è ora di cambiare per davvero fino ad ora come è andata? quello è il mio slogan il mio slogan è è ora di governare per davvero è ora di governare per davvero proprio mi riallaccio quello che ho detto poc'anzi la regione Marche non si può dire che sia stata tra virgolette mal governata non hanno fatto scelte sbagliate non hanno proprio fatto scelte che è magari la cosa peggiore perché a volte anche quando non si governa perfettamente qualcosa di buono si può fare questi ultimi 5 anni dell'amministrazione di centro-sinistra della nostra regione c'è stata proprio una mancanza di governo non si conoscono neanche i nomi degli assessori regionali non si sa cosa abbiano fatto nel territorio non c'è stata proprio la presenza pratica e fisica e di conseguenza ora è tempo di governare per davvero nel senso occorre essere presenti in regione presenti sul territorio per affrontare tanti temi tanti problemi che esistono qui nella nostra provincia in tutta la regione lei è un imprenditore agricolo quindi in primis come persona dà importanza alla valorizzazione insomma del territorio dei prodotti a chilometro zero e questo poi si trasferisce anche nel suo programma elettorale quello della valorizzazione del nostro entroterra e delle nostre eccellenze assolutamente sì io penso una cosa che la mancanza di servizi diffusi sul territorio sul quale immagino poi torneremo crea un grande rischio ma lo ha già creato e si è perpetrato già nel tempo quello dello spopolamento del nostro entroterra e dei nostri centri minori tant'è che noi abbiamo delle bellezze incredibili nei nostri borghi un territorio meraviglioso spesso spopolato con la mancanza di attività questo perché perché noi ci possiamo mettere nelle diciamo così nei panni di un turista o nei panni di una giovane coppia che vive a 50 60 chilometri nel nostro entroterra o che vuol venire il turista a visitare il nostro entroterra prima di partire si informa si informa su che tipo di viabilità c'è magari dal suo agriturismo per giungere alla costa si informa su se c'è o meno un ospedale a portata di mano nel caso dovesse star male la coppia giovane che vuole mettere su famiglia si informa e sa dov'è magari la scuola più vicina o meno vicina dove potranno andare in seguito a scuola i propri figli ecco tutte queste cose sono importanti se questi servizi non sono garantiti e non sono a portata di mano il turista non viene e la giovane coppia si trasferisce un tempo si trasferiva nelle città del lungomare della costa e in parte ancora viene oggi c'è un fenomeno ancora più grave che molti giovani proprio se ne vanno via se ne vanno via fuori regione se ne vanno all'estero perché oggi c'è una preparazione molto più avanzata c'è una conoscenza del mondo dei luoghi tramite i social molto più futuristica di conseguenza c'è proprio questo spopolamento complessivo quindi è chiaro che occorre mantenere i servizi sul territorio per mantenere la vivibilità di questo territorio perché non è tanto una mancanza di lavoro che esiste o una mancanza di servizi alla fine diventa un problema sociale nell'entrotella rimangono solo gli anziani i giovani non ci sono più di conseguenza c'è anche un proprio un abbandono del territorio e di chi ci vive questa è una cosa che va assolutamente invertita anche perché noi abbiamo regioni molto vicine alla nostra come l'Umbria e la Toscana che hanno un 40 e passa per cento di turismo straniero sui loro territori le marche solamente un 16% vuol dire che c'è un problema reale di promozione di manutenzione del territorio di vivibilità e dare servizio su questi territori quindi il potenziamento delle infrastrutture insomma in primis diciamo indubbiamente e poi uno sguardo anche alle imprese abbiamo parlato di lavoro per giovani e meno giovani soprattutto in una fase come questa delicata di questa emergenza sanitaria in modo particolare che cosa si fa per le imprese? la fase diciamo covid è stata una fase imprevedibile, difficile io su questo non voglio condannare nessuno perché chiaramente è stata una reale difficoltà che ci ha messo tutti di fronte a una iniziativa inedita che non sapevamo sinceramente come affrontare in quella fase ci sono state una serie di interventi più o meno sufficienti, spesso insufficienti dati un po' a pioggia, dati diciamo nella fase appunto emergenziale anche a favore delle imprese, a favore dei cittadini eccetera ora occorre fare una programmazione molto più mirata adesso è ora di aiutare e di andare incontro a quelle imprese a quelle persone che hanno voglia davvero di guardare avanti che hanno voglia di investire, che hanno voglia di ricominciare che hanno voglia di assumere, che hanno capacità e potenzialità di assumere quindi è ora che la regione capisca quelle sono le vere esigenze del territorio e magari produca dei finanziamenti e dei bandi che siano mirati proprio a poter accedervi per avere i finanziamenti per portare avanti le proprie imprese ma non a pioggia, non così a caso come nella fase emergenziale ma mirata per davvero a chi è che ha potenzialità, volontà e capacità di progredire e di guardare avanti quindi è chiaro che bisogna stare vicino alle imprese soprattutto alle piccole e medie imprese anche quelle diffuse del turismo, quelle dell'accoglienza torniamo all'entroterra dare una mano a tutti quegli agriturismi, bed and breakfast chi produce prodotti tipici sul territorio è il famoso chilometro zero come dicevi prima che io conosco anche bene non parlo certo della mia piccola azienda che è la piccola azienda di famiglia che io tiro avanti più quasi per tradizione per onorare mio babbo e mia mamma che me l'hanno lasciata in identità che altro perché poi facendo il sindaco ho anche poco tempo da dedicarmici però questo mi fa stare come si dice con i piedi per terra conoscendo i problemi e cercare di interpretarli a favore ovviamente degli altri a favore di tutti coloro che hanno questo tipo di attività che ho la fortuna di toccare con mano e di conoscere bene Un argomento ostico è quello inerente la sanità la questione dell'ospedale insomma è ormai sulla bocca di tutti si parla di servizi garantiti ma garantiti come? Questo è indubbiamente il problema più sentito è il problema più sentito dai cittadini e dalla gente ma è ovvio che sia il problema più sentito perché quando si ha bisogno di avere un servizio di questo genere vuol dire che se ne ha un'esigenza vera proprio il covid ci ha insegnato quelle che sono le mancavolezze in questo territorio di questi servizi nel senso che un tempo si parlava di prevenzione un tempo c'era una sanità diffusa sul territorio che preveniva la malattia la intercettava all'inizio cercava di scoprirla prima cercava di andare incontro al cittadino se il cittadino aveva un problema aveva a portata di mano un servizio un luogo dove potessi far visitare non c'erano liste d'attesa lunghe di mesi, mesi o anni aveva il modo di farsi curare tendenzialmente prendeva per tempo come si dice la malattia oggi noi abbiamo in questa regione liste d'attesa che spesso superano l'anno di attesa a volte anche un anno e mezzo addirittura ci sono persone spesso anziane che hanno qualche malessere prendono l'appuntamento gli andano dopo un anno e mezzo non vanno neanche a farsi visitare perché non hanno neanche i mezzi per andarci perché poi spesso ti mandano anche fuori provincia e così via quindi c'è una manchevolezza gravissima il fatto che questa regione non abbia governato questo percorso ha fatto in modo che nel giro di pochi anni c'è stato un logoramento prima lento poi sempre più netto di questi tipi di servizi oggi noi abbiamo una provincia parliamo di quella di Pesaro in questo momento in buona parte sguarnita di questi presidi sanitari se noi guardiamo l'ospedale di Sasso Corvaro l'ospedale di Cagli l'ospedale di Fossombrone che di fatto sono stati chiusi in qualità di ospedale non esistono più quello di Fano è stato fortemente ridimensionato insieme a quello di Pergola il pronto soccorso di Fano dove lavorano ottime persone e cercano di dare il meglio di sé ovviamente a tutti coloro che ne hanno necessità non affronta i casi gravi cioè a Fano non c'è più chirurgia quindi non si affrontano i casi gravi se succede un incidente in qualche posto dell'entroterra ma anche della nostra città se vogliamo arriva l'ambulanza non ha neanche il medico a bordo spesso quindi trova un ferito magari sembra in una condizione neanche gravissima nell'immediatezza viene preso dall'ambulanza viene portato al pronto soccorso di Fano quando è all'interno del pronto soccorso si accorgono magari che ha un'emorragia interna lo devono riprendere sull'ambulanza e riportare a Pesaro cioè quando arriva è passata magari già mezz'ora forse anche di più secondo da dove arriva e si mette a rischio la vita di questa persona quindi la sanità deve avere dei punti di riferimento certi su tutto il territorio questo non vuol dire riaprire tutti gli ospedali perché se noi riapriamo tutti gli ospedali non è un'officina ci devi mettere dentro i medici i macchinari ovviamente tutto quanto ne consegue ma almeno un pronto soccorso lungo la valata del Metauro che sia Fossobrono che sia Cagli almeno un punto di primo intervento almeno le ambulanze medicalizzate almeno alcuni reparti dove tu puoi andare a fare delle visite senza doverti spostare fuori regione o fuori provincia questo serve su quel territorio qual è la politica sbagliata che si è fatta? ci si è riempite la bocca da parte della regione negli ultimi dieci anni su un ipotetico ospedale unico tra Fano e Pesaro cosa che non si è realizzato oltretutto e magari è meglio allora noi dobbiamo pensare questo che se c'è la possibilità di portare in un ospedale del nostro territorio sia a Fano sia a Pesaro o dove meglio si crede qualche reparto nuovo di eccellenza che ben venga e dobbiamo lavorarci tutti ci mancherebbe altro oggi andiamo a Milano a Bologna a Cotignola da tutte altre parti che ben venga un potenziamento di un ospedale in questa provincia ma non può essere l'ospedale unico l'ospedale deve essere diffuso sul territorio la sanità deve essere diffusa sul territorio quindi un cambio di strategia questo c'è nel programma del centro-destra e questo mi ha convinto fortemente a dare un contributo perché il centro-destra possa vincere in questa regione per sovvertire questa tendenza al decadimento e alla privatizzazione della nostra sanità che deve rimanere pubblica e sul territorio se poi una volta che è stata potenziata e garantita c'è anche un ausilio del privato che ben venga non mi scandalizza purché sia garantita ovviamente al cittadino la possibilità di curarsi nelle strutture pubbliche innanzitutto oltre a questo voglio aggiungere che negli ultimi cinque anni nella regione Marche non c'è stato un assessore ai servizi sociali cioè l'assessore ai servizi sociali era inglobato all'interno della sanità quindi non c'era nessuno che di fatto seguiva tutte le problematiche di tanti cittadini che anche a causa di questa brutta crisi economica che stiamo attraversando stanno un po' rimanendo indietro rispetto ad altri e vanno seguiti e vanno aiutati quindi la nuova amministrazione regionale dovrà istituire anche un assessorato ai servizi sociali per poter star vicino appunto chi ne ha più bisogno infine a Guzzi le chiedo perché dovrebbero votarla perché dovrebbero votarmi dovrebbero votarmi perché credo che un ruolo così importante come quello di un consigliere regionale là dove si legifera per i cittadini di tutta la regione occorra anche avere una certa esperienza politico-amministrativa diciamo di un po' di anni io dopo dieci anni di sindaco a Fano tre anni e mezzo di sindaco di Coglia al Metauro credo di aver maturato una esperienza che può essere messa a frutto diciamo ed essere molto utile alla collettività delle Marche e al nuovo governo delle Marche ma al di là di questa esperienza che indubbiamente è positiva io penso anche per il mio percorso di vita cioè io sono una persona che amo stare tra le persone come ogni altro cittadino guarda la cosa che mi fa più piacere è quando incontro degli amici delle persone con i quali magari sono cresciuti insieme da tanti anni e così via mi capita raramente tra i tanti impegni ma quando mi capita la cosa che mi sento dire più spesso lo dico in dialetto tu non sei cambiato per niente nel senso che sei rimasto sempre lo stesso e questo io credo che sia fondamentale perché troppo spesso chi fa politica magari a livelli alti anche nazionali eccetera non vive più a contatto con la realtà della gente di tutti i giorni non vive più i problemi di tutti i giorni non sa cosa vuol dire fare una fila la posta la banca o andare in qualche ufficio pubblico richiedere dei documenti ecco chi invece sta tutti i giorni con i piedi per terra a contatto con le persone parla con le persone si confronta continuamente rimanendo appunto se stesso come è sempre stato riesce a interpretare meglio anche i problemi riesce a capirli meglio e riesce anche con l'esperienza che si è fatta appunto politico-amministrativa anche ad affrontarli e spesso a risolverli quindi è un percorso di vita il mio quello di alternare la mia diciamo così esperienza politica e amministrativa a quello del lavoro della terra nella mia azienda quello di stare a contatto con tante persone che vivono ogni giorno la loro vita nei loro mestieri nelle loro specificità ecco questo tutto quanto insieme esperienza star con i piedi per terra ed essere giustamente e dico giustamente un cittadino qualunque io credo che possa essere utile per capire meglio quelle che sono le tematiche da portare avanti nella nostra regione a favore di tutti i cittadini adesso invece mostriamo ai nostri telespettatori come si vota fai la croce sul simbolo di Forza Italia poi a fianco scrivi a Guzzi bene il tempo a nostra disposizione termina qua io ringrazio Stefano Aguzzi grazie carissima te grazie a tutti i telespettatori e speriamo che Aguzzi possa rappresentarvi prossimamente dalla regione Marche amici telespettatori io ringrazio voi per averci seguito rimanete con Fano TV e seguite i nostri programmi grazie a tutti